Per iniziare questa manifestazione abbiamo pensato di sganciarci un attimino dall'idea classica del dolce inteso come dessert cioccolatoso. Abbiamo lavorato tre ingredienti diversi che sono il grano crudo da couscous incocciato a mano e cotto a vapore, sul quale abbiamo poggiato una strato di torta caprese, naturalmente base cioccolato e arancia, per finire con un sotè di caramello al burro con cacomela e cacomela lavorato con lo zucchero a velo e lasciato seccare per 14 ore, 55 gradi. A finire una ganache, quindi la classica mix di panna, burro e cioccolato fondente per dare cremosità, quindi tre consistenze di sapori e due di base, questo è quanto. In effetti è un modo un pochettino più originale per interpretare il tema e mi auguro, mi è parso che sia stato comunque gradito da tutti. Sono qui oggi per presentare appunto questo piatto, in particolare la caprese, una torta al cioccolato, a differenza di quella salata di pomodoro e mozzarella. Una torta grande e classico, peraltro possiamo dire. Ovviamente sì, è formata dalla farina di mandorle con aggiunta di albumi montati a neve, tuorli, zucchero e ovviamente il tocco principale, ovvero la scorza d'arancia e limone. Questa viene appunto cotta, in cottura cresce di volume e dà l'aroma tipico ovviamente di cioccolato e scorza. È un'opportunità per mostrarsi al pubblico e mostrare le conoscenze acquisite negli anni di studio e portarsi anche a livello di fiere, congressi come in questo caso, per il cioccolato o cercare di portare nuove ricette e nuove metodi di lavorazione del cioccolato in ricette innovative.